Buongiorno, ben ritrovati a tutti, avete visto in apertura di questo servizio scorrere delle immagini delle giornate nazionali di saldatura, la sesta edizione, quella svolta nell'anno 2011, bene, oggi siamo invece qua a preparare dell'edizione che stiamo preparando, l'Istituto di Diano della saldatura per il 2013, a fine maggio in particolare, i giorni 23 e 24 maggio 2013, la cosiddetta macchina organizzativa ha bisogno di tempo, quindi stiamo cercando già di lavorare per cercare di ripetere, diciamo così, i risultati raggiunti nell'ambito di quell'edizione, quindi lo scopo di questo intervento oggi è quello di valutare, esporvi.